ciao a tutti da argomenti ci troviamo presso il casale tuscolano questa sera sold out serrata innaugurazione anche aria pub federica non vi fermate più ormai 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 no ci troviamo sempre anche con i giovani ci mancavano i giocavani qua con le vizzute adesso come vedi allora federica veramente una serata sold out e poi è questo sottofondo musicale spettacolare allora fede una bellissima idea a cui ti spieghiamo anche il lancio di questo pub aria pub per tutta la stagione stessa per tutta la stagione stessa saremo qua tutti i giorni aperti con aperitivi e dopo cena abbiamo inserito anche qualche tagliere un po' di tutto un ristorante, aria giochi, barbecue, pizzeria, trattoria e pub però federica prima di chiudere questo video te sei una balleria un pezzettino dai con questa musica allora intoniamo intoniamo ossessioni è bello che noi siamo sempre spontanei federica auguri veramente di cuore e complimenti un bacione un saluto argomenti ciao 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 ciao